Amici del vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Gli organi di stampa in questi giorni dichiarano che l'Ucraina, la controffensiva dell'Ucraina centra l'obiettivo. Liberata Klitsch Kivka, che è considerato un villaggio chiave, Jens Stoltenberg, il Secretario Generale della Nato, dichiara la controffensiva Ucraina, avanza gradualmente ma il conflitto sarà lungo. Oggi parleremo di fonti energetiche, avremo delle notizie molto interessanti, intanto il prezzo del petrolio ha superato i 93 euro al barile, mentre l'Europa acquista volumi record di petrolio russo raffinato dall'India. Cercheremo di capire cosa sta avvenendo. A proposito del conflitto ucraino, la Financial Times ha dichiarato in un articolo principale in questi giorni che ormai è fallita la controffensiva, quindi un'analisi anche sullo stato delle cose in Ucraina e poi un'analisi a otto giorni dal termine del summit tra Putin e Kim Jong-un nell'estremo oriente russo. Do il benvenuto, tutto questo lo vedremo grazie a Giacomo Gabellini. Ciao Giacomo, benvenuto. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. E a Stefano Orsi. Ciao Stefano. Ciao Carlo, ciao Giacomo. Ma il nostro appuntamento del lunedì con i fatti di politica internazionale è ulteriormente impreziosito dalla presenza di De Mostenes Floros, a cui è benvenuto. Ciao De Mostenes. Grazie Carlo. Ciao Giacomo e Stefano, ben ritrovati. Allora, non ho bisogno ovviamente di presentare Stefano Orsi e Giacomo Gabellini, che i nostri ascoltatori conoscono perfettamente. ricordo De Mostenes Floros e Senior Energy Economist presso il CERA, Centro Europa Ricerche, docente presso il Master in relazioni internazionali di impresa Italia-Russia all'Università Alma Mater di Bologna. Tra l'altro Master momentaneamente sospeso per i noti motivi politici riconducibili al post-febbraio 2022 e a ottobre, quindi il mese prossimo, inizia il dodicesimo corso di geopolitica presso l'Università Aperta di Imola in presenza, questo è possibile anche frequentarlo online, per chi volesse iscriversi e frequentarlo troverete il link in descrizione a questo video. Allora, De Mostenes, il prezzo del petrolio è schizzato a 93 euro al barile, mentre ho già anticipato quella notizia, diciamo che a livello di ascoltatori mainstream non è conosciuta, ma l'Europa sta comprando via India il petrolio russo, quindi qui stiamo veramente assistendo a una messa in scena clamorosa, direi. Sì, purtroppo sì. Cerchiamo in primo luogo di capire perché ha aumentato il prezzo del petrolio molto velocemente, dopodiché entriamo nello specifico con il caso Russia, India e Europa, con questa strana triangolazione. Allora, il prezzo del petrolio è aumentato perché per quanto attiene il versante della produzione e dell'offerta, noi abbiamo avuto una riduzione da ottobre 2022 ad oggi di 3 milioni e 600 mila barili al giorno da parte dell'organizzazione dell'OPEC Plus e a questi 3 milioni e 600 mila barili al giorno si sono aggiunti un milione di barili di tagli dell'Arabia Saudita, che si tratta appunto di tagli volontari che sono stati estesi pochi giorni fa fino alla fine dell'anno corrente e un calo delle esportazioni da parte della Federazione Russa di circa 300 mila barili al giorno. A ciò però si aggiungono anche altre situazioni molto interessanti da un punto di vista anche geopolitico, se vogliamo, perché noi osserviamo un calo delle riserve petrolifere commerciali negli Stati Uniti d'America e soprattutto un calo delle riserve strategiche petrolifere statunitensi che hanno raggiunto il minimo da 40 anni a questa parte. Per quanto attiene invece il versante della domanda, Carlo, si stima che nel 2023 la domanda crescerà all'incirca tra i 2 milioni e 2, 2 milioni e 400 mila barili al giorno per arrivare a sfondare quota 100 milioni di barili. Quindi questi sono i motivi per i quali noi abbiamo un incremento dei prezzi del petrolio. L'aspetto molto interessante da un punto di vista geopolitico è quello a quale facevi riferimento tu e cioè il fatto che l'Europa sostanzialmente dice da una parte di non importare più prodotti petroliferi, greggio e prodotti petroliferi dalla Federazione Russa. In realtà una parte di quello che prima veniva importato, per prima intendo evidentemente il 24 febbraio 2022, arriva comunque nei nostri mercati attraverso un terzo paese, per la verità ce ne sarebbero anche degli altri, ma insomma questo è molto importante, è l'India che raffina questo petrolio, fa immensi profitti raffinando questo petrolio tra l'altro perché i russi lo vendevano e lo vendono ancora scontato, anche se questo sconto va poco alla volta a ridursi. Tanto per avere un paio di numeri e contestualizzare il problema, prima del 24 febbraio 2022 l'India importava qualche decina di migliaia di barili di greggio russo al giorno, 60 mila, una cifra insignificante degli oltre 4 milioni di barili che importava tutti i giorni. Siamo arrivati nel 2022 con l'India che importa più di 2 milioni di barili di greggio dalla Federazione Russa e una parte significativa, costantemente in aumento di questi 2 milioni di barili, perché non tutti vengono utilizzati dall'India, vengono per l'appunto raffinati e riesportati in Europa, ovviamente a prezzi maggiorati e questo ovviamente lo si vede quando ad esempio si va a fare il pieno di benzina. Pieno di benzina che ovviamente per quanto attiene il nostro paese bisognerebbe tener conto anche della tassazione e via dicendo, ma quello che voglio evidenziare è appunto l'importazione di prodotti raffinati a prezzi molto più alti, ma soprattutto la perdita di capacità di raffinazione dell'Italia e dell'Unione Europea, che abbiamo avuto non nell'ultimo anno ma dire la verità nel corso degli ultimi decenni, ha scappato invece di altri raffinatori, in particolar modo quelli asiatici. L'Unione Europea e l'Italia ne pagano quindi le conseguenze. Ne stiamo pagando Giacomo le conseguenze, no? Direi proprio di sì, peraltro non solo noi, ma anche gli Stati Uniti, anche se in misura minore, perché loro in una buona misura il petrolio lo hanno, ne hanno in casa anche se come diceva giustamente Demostenes, le riserve strategiche vanno sottigliandosi sempre di più, sono arrivate al punto basso dagli ultimi 30-35 anni, perché anche più, anzi nel 1981 mi sembra che avevano un livello di riserve strategiche così basse. Il problema è che non è solo la pompa di benzina che si trasferiscono questi problemi, perché l'energia è un elemento chiave per tutta la filiera economica, quella che attiene la produzione reale, quindi dai trasporti alla logistica all'alimentare, pensiamo alla produzione di fertilizzanti che ricredono una massa considerevole di energia per essere prodotti, pensiamo alla refrigerazione degli alimenti e pensiamo soprattutto che questi tagli della produzione arrivano in un momento in cui in Europa e negli Stati Uniti è nato un rialzo, forse nato mi viene da dire, dei tassi di interesse da parte delle rispettive banche centrali e il fatto che questi tagli si producono in un momento del genere equivale un po' a un atto di guerra, perché se l'obiettivo delle banche centrali con un buon livello di incompetenza mi viene da dire o di collaborazionismo, perché aumentare i tassi di interesse in Europa quando l'inflazione è ascrivibile per una proporzione molto elevata ai costi energetici è una cosa piuttosto autolesionistica. Per gli Stati Uniti il discorso è molto diverso. La BCE è al decimo rialzo consecutivo, grazie alla signora Lagarde. Sì, ma il contributo del prezzo dell'energia al rialzo dell'inflazione è considerevolissimo in Europa e l'aumento dei tassi di interesse non impatta assolutamente sul prezzo dell'energia, significa che il problema non deriva da un incremento incontrollato dei consumi, ma ha altre origini e quindi bisognerebbe fare tutto un altro tipo di ragionamento. Il problema si riverifica più per gli Stati Uniti che invece traggono dalla composizione del PIL il 70-75% dai consumi e quindi nel momento in cui c'è stato, dopo la pandemia, che sono state le iniezioni di denaro alle famiglie, c'è stato un aumento dei risparmi che poi si sono scaricati tutti nei consumi, questo ha provocato inflazione che combinandosi con la caduta di attrattività dei titoli di Stato statunitensi che sono stati acquistati in misura sempre maggiore dalla Federal Reserve e quindi monetizzati, c'è stato un aumento della massa monetaria gigantesca all'interno dell'economia statunitense e per un paese che non ha una capacità industriale commisurata, tutto ciò produce inflazione, di qui la decisione della Federal Reserve di avulzare i tassi di interesse e in un momento in cui le riserve strategiche sono i bassi, sono i minimi e quindi non c'è più la possibilità di attingere ulteriormente a queste per aumentare, espandere l'offerta e quindi mitigare le pressioni sui prezzi, questo tende a vanificare tutto il lavoro che la Federal Reserve sta conducendo ormai i danni e in effetti da due mesi, cioè dagli ultimi due rilevazioni, l'inflazione negli Stati Uniti è tornata a crescere e per una popolazione che ha sostanzialmente zero risparmi ormai questo è un problema gigantesco perché c'è un, ricordo solo questo dato, c'è un grafico molto interessante che faceva vedere come dall'aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve la curva dei risparmi si è proprio caduta a picco, è stata discendente in maniera impressionante, mentre quella dei debiti, dal momento dei debiti sulle carte di credito revolving si è aumentato di smisura, quindi c'è questa divaricazione strutturale che comporta dei fallimenti, cioè delle famiglie che non riescono a tenere fede ai loro obblighi, debitori, tutto ciò poi si ripercuote anche sui mutui che sono cresciuti al 4-4,5% insomma è uno scenario da incubo mi viene da dire. Sì, in America sarà molto interessante seguirlo anche perché culturalmente come popolo noi siamo agli antipodi, noi italiani in particolare qui in Europa, siamo agli antipodi rispetto agli americani perché gli americani non hanno minimamente la cultura come dicevi del risparmio, noi italiani in particolare in Europa ce l'avremmo, cioè nel senso ce l'abbiamo, ce l'avremmo, nel senso che se potessimo adesso anche continuare a risparmiare e quindi sarà molto molto interessante seguire anche la questione sociale negli Stati Uniti. Stefano Orsi, volume, devi attivare il microfono Stefano. Noto una discrepanza crescente tra quelli che sono i proclami o le azioni dell'Unione Europea con i fatti, nel senso che le sanzioni autolesioniste vengono aggirate dalla stessa Unione Europea perché sa benissimo che compera il petrolio russo raffinato, l'Ural se non sbaglio viene venduto oltre i 70 dollari al barile adesso e quindi copre abbondantemente i costi e garantisce la tenuta del bilancio per la Russia, questo per quanto riguarda anche l'India, gli acquisti dell'India, poi ci sono anche gli Emirati, sono parecchi paesi che stanno acquistando molto più petrolio di prima dalla Russia oltre il loro fabbisogno e poi lo vendono all'Unione Europea. E quindi c'è questa discrepanza strana tra dei proclami di amore eterno verso l'Ucraina, di odio eterno verso la Russia, di rifiuto di tutto ciò che ha un sentore di siberiano o qualcosa di simile e poi invece vanno alla ricerca disperata del petrolio, come tra le altre cose mi viene da dire De Mostenes Floros aveva ricordato in una trasmissione ai primi di marzo del 2022, cioè non ci sarebbe stato modo per l'Unione Europea di coprire l'assenza o rifiuto di acquisto di petrolio russo per l'Unione Europea, perché semplicemente non era sostituibile come fornitore di prodotti energetici. Allo stesso modo la Banca Centrale Europea ha un'altra discrepanza enorme, e cioè lei sta applicando delle soluzioni, come diceva Giacomo, per contenere l'inflazione che sono strane a dir poco, nel senso che sono misure che servono per contrarre i consumi come se fossero i consumi a determinare l'aumento inflattivo, mentre in realtà sono i costi energetici che lo stanno causando e quindi un aumento dei tassi non ha nessun senso da questo punto di vista nel contenere l'inflazione, che infatti appena anche il gas, e sta già aumentando se non sbaglio, il TTF, porterà nuovi aumenti dell'inflazione, che Kennedy dedica la Lagarde e per quanto possa alzare i tassi. La verità è, temo, che stia operando una difesa della moneta alzando i tassi per competere con i titoli di Stato americani, che non dovrebbe essere il suo compito, peraltro. Che non dovrebbe essere il suo compito. Senti De Mostenes, in un'intervista oggi sulla verità, Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, dice, afferma che i prezzi del gas in autunno saliranno perché l'Europa ha dormito, passato l'inverno mite, e praticamente dice anche quest'anno dobbiamo incrociare le dita e sperare in condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli, tradotto vuol dire in un inverno temperato, per non dire caldo. Sei d'accordo? Vogliamo inquadrare anche qui la situazione? Sì, se posso brevissimamente dire una cosa in merito a quanto sostenevano Giacomo e Stefano sul ruolo della Banca Centrale Europea, condivido la loro analisi, ma a questo punto forse avanzo questa interpretazione, poi mi risponderanno loro. La mia impressione è che la Lagarde stia agendo quindi per difendere i creditori a scapito dei debitori all'interno dell'Unione Europea e monetaria, una sorta di scala mobile al contrario, ribaltata per il fattore capitale e non per il fattore lavoro. Chiudo questa tesi e vado quindi al rivolto... No, 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 sentiamo il parere proprio di Giacomo e di Stefano. Giacomo. Sì, è un'interpretazione. Il problema, quello che dicevo, infatti, qual è? Io ho dato due interpretazioni. O è, diciamo, mancanza di professionalità o è collaborazionismo. Io infatti potevo anche interpretarla così. Il problema è che in un contesto di desertificazione economica, di industrializzazione piuttosto ormai avvertibile, calcare ulteriormente la mano con i tassi di interesse, non può che comportare un'accelerazione di questo fenomeno che produce ulteriore disoccupazione che ha, tra l'altro, un contesto rispetto al quale viene fortemente condizionato anche dalle ondate migratorie, ma questo è un altro discorso, ma comunque nel gioco rientra anche questo. Cioè, qui c'è un tessuto socio-economico che in via di lacerazione è sempre più evidente e soprattutto tutelare i creditori, ma se si mortificano così tanto i debitori al punto che i mutuatari non riescono più ad adempiere i loro doveri, credo che tutto il gioco sia ben poco sostenibile. Qui si rischia di far esplodere una serie di microcariche alla base del sistema economico-finanziario occidentale che rischiano di condurre a uno scenario ben poco prevedibile, direi. Sì, Stefano? Concordo assolutamente con The Mostines, perché il compito che sta assolvendo la Lagarde non ha spiegazione se non che qualcuno si sta approfittando del momento per ottenere dei guadagni extra. L'aumento dei tassi va a favore di tutto il mondo creditizio che ha venduto mutui a tasso variabile e che adesso hanno tassi enormi, che pesano sulle famiglie, che quindi provocano una contrazione anche dei consumi, di conseguenza perché diminuisce il reddito disponibile per due fattori, l'inflazione da un lato e l'aumento dei costi da debiti dall'altro e pertanto si hanno contrazioni evidenti su quello che è la vendita. I tumulti in Francia, tra le altre cose, sono scoppiati dopo una serie di cali dei consumi, addirittura sono arrivati al 17% nazionali sui consumi alimentari. Vuol dire che le famiglie francesi hanno problemi per fare la spesa. Ecco, queste sono situazioni bomba. Cominciamo a averle anche noi, c'è qualche giornale che ha cominciato a parlarne, quindi vediamo una situazione. Demostrano se siamo costretti, dovevi aggiungere una considerazione? Una considerazione a questo punto, una sintesi a mio avviso che ci rimanda al contesto geopolitico, le mosse della BCE mi fanno pensare che, visto che gli effetti del conflitto militare in Ucraina si stanno scaricando quasi totalmente sull'Unione Europea, all'interno della stessa Unione Europea c'è chi sta pensando di scaricarli su altri. Quindi i paesi creditori, Germania, Olanda in primo luogo, che ovviamente difettano nei confronti degli Stati Uniti d'America, stanno cercando di fare in modo che parte di quello che gli americani scaricano su di loro a loro volta venga scaricato su di noi e sul sud Europa. Quindi il problema è che si riapra una situazione simile a Biggs che abbiamo conosciuto qualche anno fa. E questo è molto grave, soprattutto sul versante manufatturiero, come ci fa capire anche la risposta alla domanda che mi hai posto sul gas naturale, se posso andare a quella? Eh certo. Ovviamente la Lagarde spera e aspica in un inverno caldo, in una stagione invernale calda, come quella che abbiamo avuto appunto nel 2022 e nel 2023, che è stato un evento straordinario. È un evento straordinario che nessuno sa se si ripeterà, Carlo. Questo ovviamente non lo può prevedere nessuno. È difficile che possano ripetersi due inverni del genere, due stagioni fredde del genere. Detto ciò però non aggiungo altro, perché appunto nessuno lo può prevedere. Il punto però è molto chiaro. Cioè noi abbiamo avuto un calo dei prezzi del gas naturale dal livello record che avevamo raggiunto lo scorso agosto per tre fattori fondamentalmente. Uno, quello climatico, inverno relativamente mite. Due, fattore di cui non parla nessuno. Per la prima volta dopo vent'anni è calata la domanda di gas naturale della Cina. E questo è un aspetto straordinario che insieme a quello climatico nessuno aveva previsto, ma le chiusure da Covid hanno fatto sì che in Cina ci fosse una diminuzione di gas naturale contro qualsiasi previsione. Tre, il calo dei consumi di gas naturale in Unione Europea e in Italia, non soltanto per questioni climatiche o addirittura come qualcuno azzarda in maniera fuori luogo per risparmi dei singoli utenti che ci sono stati, ma sono stati minimi, ma per un calo nell'attività manifatturiera. E qui mi ricollego ai problemi che avanzavano sia Giacomo sia Stefano. Per cui, qual è l'elemento che più mi preoccupa e che fa sì che io condivida le preoccupazioni che ad esempio avanza il Presidente di Nomismo Energia, Davide Tabarelli, in un'intervista alla Verità di oggi, quando appunto parla di un'Europa miope e di un provabile incremento dei prezzi del gas naturale? Mi preoccupa il fatto che in questi giorni i dati ci dicono che la domanda di gas naturale, soprattutto liquefatto da parte della Cina, sta ripartendo. La Cina ha fatto richiesta e acquisti di gas naturale liquefatto sia per il 2023 ma anche per l'intero 2024. Quindi questo cosa vuol dire? Che se l'anno scorso gran parte delle navi metanifere ha cambiato direzione, ha cambiato approdo, non arrivava più in Asia ma prendeva la via dell'Europa parzialmente sostituendo il minore gas russo che importavamo via tubo, quest'anno invece la ripresa dei consumi cinesi rischiano di non metterci più nelle condizioni di favore, di relativo favore, che abbiamo avuto lo scorso inverno. Questo a mio avviso è un elemento preoccupante perché si verrà a creare una competizione per il gas naturale liquefatto tra l'Unione Europea, la Cina e l'Asia nel suo complesso. Conseguenza? Aumenteranno i prezzi del gas naturale e le conseguenze sociali li hanno già evidenziati molto bene Giacomo e Stefano. Sì, quindi Giacomo come puoi intervenire su questo ambito? Anche Demostrens ribadisce le probabili conseguenze sociali insomma. Direi che è piuttosto evidente, io non mi capacito di come questi politicanti si siano potuti adagiare sugli allori per tutti questi mesi, benché il problema fosse evidente sul tavolo, è stata solo una convergenza di fattori inaspettatamente positivi che ha potuto sventare il disastro, perché è veramente quello, cioè direi veramente, Demostrens l'ha sintetizzato molto bene, cioè il calo dei consumi della Cina, un inverno mite che quindi ha richiesto riscaldamenti molto minori e il crollo proprio, soprattutto della produzione industriale per quanto concerne i settori energivori. Ma non è una bellissima notizia questa, perché il fatto che questi producano di meno significa deindustrializzazione, significa che questi, queste aziende, BASF, ne dico una, grande azienda chimica, conglomerato chimico tedesco, che annulla i progetti di espansione in Europa che ha già pianificato, riorientarli in Cina e negli Stati Uniti. Volkswagen fa lo stesso, BMW fa lo stesso, cioè questo si parla. Quando Tabarelli evidenzia che il prezzo alla borsa di Amsterdam del gas naturale è 35, 35 euro, mentre negli Stati Uniti è 6, questo è un differenziale che conferisce agli Stati Uniti una competitività clamorosa. Aggiungerei a quello che ha detto Demostrens, i tre fattori, ne aggiungerei un altro, che poi contribuisce all'esito finale, cioè il fatto che i paesi occidentali hanno offerto prezzi superiori a compagnie come Leny, che ci ha guadagnato un mucchio di soldi, per riorientare le rotte delle navi metanifere che prendevano la volta del Pakistan, del Bangladesh, per esempio, per riorientarle dopo a contratti firmati, quindi stracciavano contratti e le mandavano in Europa. Questo ha provocato dei disordini, diciamo chiaramente, un caos sociale, economico, comprensibile in quei paesi che ha naturalmente alimentato il risentimento nei nostri confronti e tutti questi paesi stanno facendo la coda per entrare nei BRICS. E i BRICS hanno, se c'è un aspetto determinante, che stanno accumulando, stanno spostando l'attenzione proprio sulla loro funzione di grandi paesi produttori di energia, in un contesto, diciamo, di stabilità internazionale che va configurandosi. Questi paesi potrebbero, io l'ho chiesto anche alle vostre giorni fa, trasformarsi in aggiotatori di energia nei nostri confronti, perché questo risentimento, diciamo, economicamente non è molto spiegabile, ma potrebbero, diciamo, ci sono una serie di fattori che secondo me convergono verso quella direzione e quindi noi potremmo trovarci anche a fronte di una disponibilità di gas naturale, magari sufficiente, potremmo comunque essere dovunque, in ogni caso, costretti a pagare prezzi superiori. E questo sarebbe un crollo definitivo per la nostra competitività internazionale. Ti ho visto far cenni d'assenso, Demostenes, su questo intervento, anche cenni d'assenso. Sì, condivido. Voglio dire, hai aperto la trasmissione giustamente facendo riferimento ai 93 dollari al barile. Già questo di per sé è uno degli aspetti della guerra tra i BRICS, Federazione Russa e Cina fanno parte dei BRICS, grandi produttori di energia come Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Iran sono appena entrati, e l'Occidente, per cui siamo già in un contesto appunto di conflitto che non potrà che peggiorare se pensiamo, ad esempio, che qualche paese come l'Indonesia, che possiede grandi riserve di materiali di base, sta già pensando in prospettiva a un OPEC dei materiali di base per la transizione energetica. Quindi c'è ancora tanta strada da fare, Tabarelli ha ragione quando mette tanti puntini su lento. Sì, qui ci sarebbe da aprire perché nell'intervista molto interessante parla anche della mobilità elettrica e che ci sarebbe... Vuoi accennare qualcosa, Demostrenes, su questo? Perché proprio la stronca, la dice, non è tecnicamente fattibile anche a livello di infrastrutture nei prossimi anni. Ha detto, dice, la scadenza del 2035 verrà assolutamente posticipata. Sì, verrà posticipata. Più in generale, lui non lo esplicita, ma a mio avviso Tabarelli non pensa soltanto a quella del 2035 per quanto riguarda appunto i mezzi di trasporto, ma in generale pensa alla necessità di spostare in avanti tutta una serie di obiettivi temporali che si è data all'Unione Europea e che non potranno essere a mio avviso e a suo avviso mantenuti. E conclude l'intervista tra l'altro con un riferimento al diesel e al fatto che il diesel sia ancora estremamente conveniente. Questo non perché non si voglia la transizione energetica o perché non ci sia da parte nostra, credo anche da parte di Giacomo e di Stefano, la non consapevolezza delle conseguenze anche sulla nostra salute, delle fonti fossili, lo sappiamo tutti, ma tra i sogni e la realtà c'è un distacco non indifferente e Tabarelli ci riporta dinanzi ad un sano realismo. Sì, poi tra l'altro nell'intervista Tabarelli parla senza considerare appunto, anzi lo considera che tutta una serie di mezzi di trasporto, perché dice anche tecnologicamente si sta parlando. Non è applicabile la tecnologia verde, nel senso che aerei o altre cose non andranno mai a batterie. Ti ho lasciato riposare qualche minuto, prego. Sì, guarda, mi viene da dire che noi siamo su una locomotiva lanciata a tutta velocità verso un ponte che è crollato, no? E lo facciamo convintamente proprio, nel senso che è sotto gli occhi di tutti che il 2035, che non è dopodomani, è ancora prima, è assolutamente inapplicabile e invece l'Unione Europea pretende di arrivarci obbligando tutti o ad adattarsi a questa data o a rinunciare alla mobilità propria, personale. Perché noi lo vediamo tranquillamente quando scarica sui cittadini i costi di questa transizione e di questi obblighi, vincolando i paesi a emettere dei regolamenti che blocchino il traffico o limitino fortemente la libertà di circolare dei cittadini che hanno comprato un mezzo omologato e a norma di legge da uno Stato, che adesso lo Stato ti dice non c'era la data di scadenza ma te la metto posticipata, nel senso che te la metto dopo, dopo ti dico che tu adesso non puoi più usare quei mezzi che io ti ho venduto senza una data di scadenza e quindi i poveri, tra virgolette, nei quali mi ci metto anch'io, che non possono permettersi una Tesla da 80 mila euro, ebbene devono rinunciare a girare in macchina di fatto o avere fortissime limitazioni alla circolazione. Nell'intervista che ho letto, tra le altre cose, specifica appunto quanto in realtà il fossile abbia ancora molto da dire, se non altro perché la sua disponibilità nel mondo è enorme ancora e pertanto in tutto il mondo dove la domanda di fossile cresce, perché nell'economia globale il sacrificio estremo di intere classi di cittadini che sono la maggioranza, alla luce di un'ideologia, di un fanatismo, non ha nessun senso. A me viene da dire quasi che noi dobbiamo salvare il pianeta, ma da chi dice di volerlo salvare forse, perché veramente mi sembra un atteggiamento folle da parte della nostra classe dirigente, che non ha contatto con la realtà, soprattutto di chi vive non agiatamente nei palazzi di Bruxelles. Sì, io poi lancio una suggestione, una domanda, ma sarà veramente l'auto, la locomozione elettrica quella del futuro o l'elettrico magari è funzionale al grande reset? Perché qui le tecnologie effettivamente che vengono boicottate permetterebbero una movimentazione, di mantenere la movimentazione di massa. Come diceva anche appunto, riprendendo ancora l'intervista di Tabarelli, dice la gente non rinuncerà facilmente, anzi, a una mobilità a cui è abituata e stiamo cominciando a vedere le città dei 15 minuti, il muoversi, la mobilità a 30 km all'ora. Tra l'altro ci sarà, vi anticipo venerdì una intervista molto interessante all'ingegner Fabio Castellucci, assieme a Davide Rossi, dove si parlerà, si metterà molto in discussione il futuro se sarà effettivamente elettrico. Secondo te De Mostenes potrebbe, è così scontato che sarà elettrico? Io non riesco a capire, o meglio, lo riesco a capire ma in un quadro completamente diverso. Esce il nuovo modello di un ammiraglio, l'ordine delle ammiraglie sono tre fondamentalmente tedesche, che annuncia che l'autonomia arriverà fino a 540 km con un pieno. Ma che autonomia è 540 km? Cosa significa? Da Veneto andiamo a Roma e dopo bisogna fermarsi. Cosa si sta fermi? Tre ore perché ci sarà evidentemente la fila alla colonnina? Io credo che la mobilità elettrica è insostenibile, ne abbiamo parlato anche qualche mese fa con Sergio Giraldo della verità, se partiamo al presupposto che fra 15-20 anni il parco circolante di automobili sarà un decimo rispetto ad esso. E quindi vuol dire che 9 persone su 10 di noi che adesso usano l'automobile non utilizzeranno l'automobile. De Mostenes. Assolutamente. Vidi quell'intervista con l'amico Sergio Giraldo e condivido le considerazioni che lui aveva avanzato. Qui fondamentalmente si pensa di poter spostare tutto sull'elettrico. Questo è il grande errore che a mio avviso viene portato avanti, scientemente da parte dell'autorità di Bruxelles in primo luogo, nella consapevolezza però che ciò non sarà possibile o per meglio dire non sarà possibile per tutti. Cioè sarà possibile per certe classi sociali, possiamo dirlo, e non sarà possibile per altre classi sociali, per i subalterni, per la maggior parte della popolazione. E quindi poco alla volta attraverso la politica, io la chiamo la politica del senso di colpa, si sta cercando di attribuire una sorta di senso di colpa, di eccesso di consumi da parte della maggior parte della popolazione, che per carità in alcuni casi può essere anche vero se si vuole affrontare correttamente il problema del consumismo, ma qui entriamo in tutt'altra logica e forse bisognerebbe ripartire da Pasolini da questo punto di vista qua. Ma non è questo l'oggetto al quale facevi tu riferimento. Io aggiungo un'ultima cosa Carlo, e cioè a mio avviso il futuro, se di futuro si può parlare, non sarà nella possibilità di poter scegliere tra 10, 15 e 20 diverse automobili. Il futuro sarà tra una mobilità pubblica e una mobilità privata. In particolar modo una mobilità pubblica e una mobilità privata. E da questo punto di vista, soprattutto il nostro Paese sconta una retratezza drammatica per quanto riguarda gli investimenti nel trasporto pubblico, sia esso in particolar modo su rotaia, sia esso in particolar modo su gomma. Ma, come potete notare, nessuno a Bruxelles pone mai il tema della mobilità pubblica. Questo è per l'interazione. Sì, tanto che un paio di settimane fa in un'intervista con Davide Rossi dove affrontavamo il problema dell'elettrico delle città in 15 minuti. Il titolo, diciamo, provocatorio, ma neanche tanto, dell'intervista era guarderemo i ricchi girare in auto fra un po' di anni. Ecco, Giacomo, vuoi fare una considerazione finale? Ma io credo che sia tutto una grossa, chiamiamola presa in giro, non lo so, non saprei come dire. Sei proprio diplomatico. No, ma perché mi pare difficile interpretarla altrimenti. Cioè, noi ci sono navi porta container, perché nella divisione internazionale del lavoro abbiamo demandato tutte le produzioni all'Asia, no? E quindi tutti questi beni che vengono caricati su navi gigantesche che consumano l'ira di Dio e devono trasportare manufatti qua da noi. Perché nessuno pone il problema della reindustrializzazione dei vari singoli paesi a cercare di favorire il consumo, la produzione e il consumo sul posto? Già si eliminerebbe buona parte dei consumi che... Cioè, perché attribuire tutto al trasporto privato delle auto è veramente ridicolo. È ridicolo. Ci sono agli aerei, per esempio, o come dicevo, le navi porta container che consumano tantissimo di più. Però nessuno mette in dubbio che la ripartizione internazionale del lavoro debba essere... debba rimanere allo stato attuale. Si fa passare, come giustamente diceva De Mostrenes, attraverso un senso di colpa farlocco e operazioni pubblicitarie del tipo quella di Greta Thunberg. Si fa passare un messaggio di colpevolizzazione dei singoli comportamenti individuali che mira a instillare nel singolo percettore di 1.000-1.500 euro di stipendio al mese il senso di colpa perché il suo stile di vita è insostenibile, che magari ha una Fiat che ha 15 anni che va a metano. Mentre invece dal World Economic Forum di Davos, gente che si sposta solo in jet privato, viene a dire agli altri, al singolo cittadino, che il suo stile di vita è incompatibile con il rispetto dell'ambiente. E quindi via discorsi, ecocidio, tutte queste cose qua. È un atteggiamento particolarmente ripugnante, soprattutto credo che ormai anche le persone un po' più, diciamo, dure di comprendonio siano ormai riuscite a capire cosa c'è in ballo. Perché è talmente sfacciata questa, diciamo, questa propaganda, anche per la metodologia attraverso cui viene diffusa. Veramente, il World Economic Forum di Davos, che è l'inno allo sfarzo, allo spreco, viene a predicare in nome di questo presunto senso di responsabilità battaglie di questo genere. Non credo che stia passando questo messaggio, ma c'è da avere paura, perché le cosette autorità di Bruxelles, che di autorevole non hanno niente, ma stanno cominciando ad avere molto di autoritario, cominceranno a imporre, a rendere la vita proprio impossibile attraverso tutta una serie di restrizioni indirette, magari non di vieti diretti, ma un po' come l'abbiamo vista sotto altri aspetti. Misure che tendono a limitare pian piano la libertà di movimento e quindi il singolo cittadino, poi per una conformazione del territorio come abbiamo noi, che noi non abbiamo, abbiamo anche molti paesini, quindi c'è un territorio non relativamente piccolo, ma abitato piuttosto in maniera omogenea, non siamo come gli Stati Uniti che hanno ampissimi spazi vuoti e città da milioni e milioni di abitanti e quindi lì la mobilità risulta più semplice. Io abito in un paese, per sforzarmi nelle fabbriche più vicine, occorrono 20-25 minuti di macchina. Come si fa? Questa gente che fine fa? Chiarissimo, chiarissimo. Io chiuderei con un'annotazione. Prego Stefano. Io ritengo che parlare di elettrico oggi sia parlare di una tecnologia ormai superata. Deve ancora nascere, ma invece è già obsoleta. Perché credo fermamente che il futuro sia nella trazione a celle combustibile e cioè nell'idrogeno che verrà trasformato in energia elettrica direttamente sulla vettura. Più che avere un accumulo di energia che ha due grossi problemi. Il primo, il costo dell'estrazione di questi materiali che è enorme e viene fatto con energia fossile. E il secondo, la sua lavorazione e trasformazione in batterie. Terzo, il peso che hanno queste batterie che porta un dispendio di energia, una dispersione di energia dalla trazione e che pertanto crea enormi problemi non sormontabili facilmente. Non per niente tra l'altro negli Stati Uniti hanno trovato uno dei più grandi, enormi giacimenti di litio, proprio poco tempo fa hanno dato la notizia. Comunque sia, i vantaggi dell'idrogeno sono molteplici. Si andrà sempre a estrarlo dal metano CH4 e quindi da lì si trova abbondante idrogeno. Però la velocità di rifornimento è esponenziale rispetto a quello che è una colonnina anche ultraveloce di ricarica per le vetture elettriche. E l'autonomia è assolutamente paragonabile, parlo di un'ammiraglia, a quella di un'autovettura a combustibile fossile. Il vantaggio è che l'energia la produci sulla vettura, la potenza è analoga a quella delle auto attuali e l'emissione è acqua. Chiaro. Allora, questi saranno i temi sulla possibile e probabile, diciamo, locomozione dei prossimi decenni sarà l'argomento di una prossima nostra socculenta puntata qui sul vaso di Pandora con un esperto. Io chiuderei questo argomento dicendo sì, ma queste fonti, queste modalità, diciamo, queste tecnologie hanno un grosso limite rispetto all'elettrico che non sono funzionali al grande Reset. Questa io la chiuderei come, se vogliamo, provocazione ma neanche tanto. Carlo, tu vuoi dire che c'è qualcuno assolutamente che vuole sfrecciare con la sua Ferrari elettrica da 450 mila euro attraverso Roma senza altre auto, insomma? No, ma non ti dico neanche quello perché nei progetti dell'Unione Europea è che i produttori di auto, i produttori che fanno una produzione sotto i 10.000 esemplari di auto possono continuare a produrre il motore tradizionale perché il rombo di un 12 cilindri è sempre intrigante ovviamente. Ordineranno i barilli di combustibile direttamente a casa però perché non so quanti distributori ci saranno ancora. Ma lì poi potremmo allargare il discorso sul depopolamento, infatti chiudo proprio con l'ultima annotazione. Uno dei filosofi che va per la maggiore in America è Noa Juwal Harari, l'architrave del cui pensiero è che l'essere umano non è una risorsa per il pianeta ma un problema, no? E come sappiamo tutti i problemi vanno risolti, no? Vanno rimossi. E qui mi taccio l'intelligenza. Interessante. Iniziamo da lui. Prego? Iniziamo da lui. È un problema. Quindi iniziamo da lui a risolverlo. Ma lui deve rendere consapevoli le persone di quali sono i problemi. Bene, dia l'esempio. Dia l'esempio, certo, certo. Veniamo al conflitto russo-ucraino. Stefano, allora gli organi di stampa dicono che la controffensiva ha centrato l'obiettivo, l'illagio di Kleshkivka è stato conquistato, è vero? È verissimo, ci hanno preso in giro, puntavano a Menitopol solo per distrarci e prendere Kleshkivka, che era un obiettivo principale. Chiaramente sono riusciti a darci a bere che in realtà avevano obiettivi più importanti, quali arrivare al mare Dazov, separare, isolare la Crimea, tutta nebbia di guerra per distoglierci dal vero obiettivo che era Andrejevka addirittura, che è una metropoli che a sud di... no, scusate, sto scherzando chiaramente. Allora il problema è questo, che Kleshkivka innanzitutto non è tutta sotto controllo degli ucraini, che che ne dicano. La parte nord del villaggio è ancora sotto controllo russo e non demordono tra l'altro. Inoltre il percorso della ferrovia che fa da linea di difesa naturale, perché è sopraelevata rispetto al terreno, è tutta sotto controllo russo, anche a nord di Kleshkivka. E quindi da questo punto di vista, posizionandosi su quella linea e non avendola ancora ceduta, per ora il guadagno del villaggio, che è in una posizione strategica, ma ancora più strategica, in realtà erano le alture sopra Kleshkivka, che avevano preso qualche mese fa e non è che hanno avuto, cioè un mese e mezzo fa, non è che hanno avuto un grande vantaggio dalla presa di quelle alture e in realtà non hanno preso, ad esempio, la parte nord delle difese della città e quindi per ora è una vittoria di Pirro, nel senso che non ha ottenuto un vantaggio vero e proprio e gli è costata molto in termini di risorse, di mezzi e risorse umane, cioè i soldati persi per conquistare due microvillaggi. In realtà cercano di avere un contentino, nel senso di dire che non è un totale fallimento perché abbiamo raggiunto degli obiettivi. a breve Zelensky andrà a Washington in visita e qualcosa deve portare. Mi preoccupa molto invece quello che ho letto ieri e cioè che nella parte di Kherson e nella fascia di Zaporozhye, dove ci sono sulla linea del fronte, gli ucraini stiano creando delle fasce dove obbligano la popolazione a andarsene. È di fatto una sorta di deportazione della popolazione che ho il sospetto che voglia arrivare a un risultato che hanno già denunciato i civili a Kharkov e cioè laddove è stata fatta questa ordinanza di sgombero dei villaggi e delle città in quella fascia che è stata indicata, quando si sono presentate le famiglie ai punti di raccolta sono state mandate via le mogli, i figli o gli anziani, ma trattenuti tutti gli uomini in età di leva e arruolati. E quindi credo un espediente per arruolare sempre persone russofone e spedirli al fronte a morire. E questo è l'operato classico di un regime a tutti gli effetti. Sì, è un regime in grosse difficoltà, in grossissime difficoltà evidentemente anche come dinamica. Senti, Financial Times Stefano dichiara in prima pagina che con un articolo molto molto dettagliato che dice ormai è fallita la controoffensiva. È vero, hanno ragione. Nel senso che oltre tre mesi dopo l'inizio delle operazioni noi possiamo dire chiaramente che nessuno degli obiettivi, neppure i minimi, sono stati raggiunti. E questo significa che a fronte di una perdita enorme di personale militare e di mezzi, ogni obiettivo dell'offensiva ucraina per quest'estate è fallito. Hanno trovato giustificazioni tra le più assurde, dalla vegetazione che rallentava e creava dei guai ai blindati e ai carri armati, adesso c'è il discorso del meteo che può peggiorare a fine mese, soprattutto verso il 25, dovrebbe arrivare una perturbazione, e pertanto rallentare ancora le operazioni, soprattutto con i mezzi occidentali. La verità è che era un'operazione pensata male, che aveva obiettivi troppo evidenti, le difese russe sono state ben piazzate e la preparazione dei soldati è migliorata molto da questo punto di vista, erano pronti a respingere gli ucraini e l'hanno fatto. Io mi aspettavo uno sfondamento molto maggiore come fronte, sono ancora fermi a 7 km dal punto di inizio, e questo dopo tre mesi, e su fronti molto ridotti, tra le altre cose. Certo. Demostenes, una tua analisi, perché noi conosciamo tutti Demostenes come uno dei massimi esperti in Italia di energie e di politiche energetiche, ma Demostenes è anche un finissimo economista e analista geopolitico. Prego, prego Demostenes. Ti ringrazio. È una constatazione, non è un complimento, è una constatazione di ciò che è. Grazie. Condivido quanto diceva Stefano, che tra l'altro segue spesso e volentieri nelle sue analisi strategico-militari. L'aspetto che vorrei aggiungere, e chissà se lui o Giacomo condividono, è il seguente, e cioè io non entro ovviamente nelle questioni più strettamente militari, ma da un punto di vista politico io ho un'impressione, Carlo, e cioè che dietro le quinte, dietro il conflitto, ben descritto per l'appunto da Stefano e da Giacomo, nel corso degli ultimi giorni, delle ultime settimane, il dialogo tra i russi e gli Stati Uniti d'America e tra gli statunitensi si sia riaperto, forse non sia mai interrotto, ma è particolarmente intenso. Questo ovviamente perché gli Stati Uniti d'America si sono resi conto di quello che ha ben descritto Stefano e quindi mi pare che sia cambiata anche la narrativa nel suo complesso. Penso ad esempio a come certi organi di stampa occidentali stanno descrivendo il presidente Zelensky, non lui direttamente, ma alla situazione del paese che si trova improvvisamente in preda a una corruzione, soprattutto nel settore delle altre gerarchie militari, che quindi vengono pubblicamente messe in cattiva luce dinanzi all'opinione pubblica. Emergono anche delle indagini tra la popolazione ucraina che appunto evidenzia una forte critica nei confronti del governo di Zelensky. Noi sappiamo molto bene che quando iniziano ad uscire queste informazioni da chi ti dà le armi, da chi ti dà sostegno politico e finanziario, beh qualcosa sta per succedere. E non so se appunto Stefano e Giacomo condividono questa mia analisi e più in generale il fatto che i dialoghi dietro le quinte tra lussi e americani siano particolarmente intensi nelle ultime ore. E questo secondo me è un aspetto positivo ovviamente, perché tutti quanti ci auguriamo che il conflitto finisca il prima possibile. Gli ucraini muoiono come mosche, tanto per essere chiari. Giacomo, la riflessione che faceva De Mostenes quando cominciano da chi fornisce le armi, il sostegno economico, venire certi argomenti fa presagire qualche novità molto importante. Però anche Stoltenberg, il segretario generale della Nato, dice che il conflitto sarà lungo. Sì, beh è un po' un gioco delle parti, perché comunque io, diciamo da tempo, il fatto comunque prima si è cercato addirittura di scaricare la responsabilità dei mancati successi della controffensiva sugli ucraini. Quel documento della Bundeswehr, dell'esercito tedesco, che è arrivato alla Bild, in cui si diceva, ma noi gli abbiamo insegnato a noi della Nato tutte queste tecniche di combattimento così efficaci, ma loro non le sanno mettere in pratica. Cioè, oltre che vergognoso, perché scarica veramente la colpa della gente che sta facendo ammazzare, letteralmente, però presagisce da un punto di vista politico a qualcosa di poco positivo. E anche le stesse parole di Zelensky all'Economist, l'intervista di Zelensky all'Economist, in cui parlava che, io non so come interpretarla, qualcuno ha interpretato come una sorta di minaccia velata. Cioè, il fatto che Zelensky ha detto, ah, perché i paesi europei fino adesso si sono comportati bene nei confronti dei nostri, degli ucraini, che sono stati accolti nei loro paesi, però adesso se questi dovessero essere abbandonati perché la Nato abbandona l'Ucraina al suo destino, sarebbe uno scenario veramente brutto per l'Europa. Beh, questa si presta a diverse interpretazioni, ma potrebbe anche significare che lui stesso ha sentore che qualcosa scricchiola alla base del sostegno occidentale nei suoi confronti. Del resto, anche questo l'abbiamo detto più e più volte, gli americani non sono nuovi a utilizzare, a usare proprio come taxi le varie forze in campo per loro spiegarle i propri scopi strumentari e poi abbandonarle quando hanno ritenuto che il loro scopo o è stato raggiunto o non è più raggiungibile. Cioè, abbiamo visto come hanno scaricato i kurdi più e più volte, tanto per dirne una, abbiamo visto quando hanno ritenuto che la situazione in Afghanistan era persa, hanno piantato baracchi e burattini senza avvertire nessuno dei loro alleati della Nato e sono semplicemente andati via, lasciando, come dice il professor Dallaglio, le chiavi sugli AMV, sulle attrezzature militari gigantesche sul posto, ad uso e consumo dei talebani, degli stessi talebani contro cui combattevano per vent'anni e i quali volevano sottrarre il controllo del paese. Quindi mi pare che qualcosa, sono perfettamente d'accordo con The Most, si stia muovendo sotto questi aspetti. Bisogna vedere, credo che però ci sia una lotta intestina all'interno dell'establishment statunitense, tra coloro che puntano all'indebolimento strutturale della Russia, a costi qualche costi, e credo che in quest'ambito rientri indubbiamente Victoria Nuland, che è il vero dominus della politica estera statunitense, insieme a Anthony Blinken e Jake Sullivan, e ci siano invece delle componenti del Pentagono che sono più realiste e che ritengono che siano, portando avanti questo conflitto, poi soprattutto in quella maniera così subdola, cioè gli attacchi attraverso i droni nel territorio russo contro obiettivi sostanzialmente civili, rischi di innescare un'escalation che si sa dove comincia, ma non si sa mai dove può finire. Quindi penso che stiano cominciando ad emergere delle forze, delle correnti all'interno dell'establishment statunitense che fino adesso sono rimaste piuttosto nell'ombra. Certo, dobbiamo sempre avere presente a partire dal presupposto che non è un'entità unica e granitica in America, ma ci sono delle forze dei centri di potere che sono fortemente contrapposti uno all'altro. Il terzo elemento del PASA, dell'intervista di oggi, Giacomo, io vorrei, partendo da te, un'analisi a una settimana di distanza dall'incontro tra Putin e Kim Jong-un nell'estremo oriente russo. Anche questo è un passaggio molto, molto importante per capire il quadro generale. Tra l'altro a breve ci sarà una visita di Putin a Pyongyang, e quindi i legami sembrano particolarmente forti. A te la parola. Beh, si è trattato di un passaggio piuttosto importante perché al di là della retorica purtroppo l'asse del male, si è parlato dell'incontro dei pari a discorsi del genere, in realtà Putin e Kim Jong-un si sono incontrati e hanno raggiunto un accordo che ha un'importanza piuttosto rilevante. Perché? Perché Kim Jong-un a quanto pare consegnerà alla Russia scorte di proiettili d'artiglieria, Stefano ne sa più di me, ma una quantità gigantesca, scorte per tre anni o qualcosa del genere, mi diceva proprio giorni fa. E soprattutto otterrà come contropartita, vabbè, a parte accordi commerciali che quelli ci sono sempre di complemento, ma l'impegno russo e anche cinese a quanto pare a votare contro il rinnovo delle sanzioni a cui la Corea del Nord è sottoposta dall'ONU, dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU dagli anni 90, e un inserimento nella Corea della Marina e la Corea del Nord nelle esercitazioni congiunte tra Russia, Cina e Corea del Nord che si terranno nell'area del Pacifico. Un'area che è piuttosto importante e cruciale dal punto di vista strategico in cui si registra una crescita delle spese militari da parte del Giappone che sta varando sottotraccia e neanche troppo sottotraccia. In realtà è un piano di riarmo in cui si concentra l'attività dell'AUKUS, in cui si intensificano le forniture di armi a Taiwan. Adesso è notizia di ieri, mi sembra, che la Cina ha sanzionato Lockheed Martin e Riteon per le forniture di sistemi d'arma a Taiwan. Quindi l'inserimento della Corea del Nord, quel cuneo settentrionale della penisola coreana, rappresenta un dato piuttosto importante. Io mi aspettavo che addirittura ci fosse un'apertura per quanto riguardava la fornitura degli Zircon o alcuni comunque missili strategici russi, intercontinenti, cioè missili soprattutto ipersonici. Invece forse quello non si è arrivato a tanto, a quanto se ne sa, per ora comunque. Ma il dato piuttosto cruciale è questo, che si va stringendo un'alleanza che ha degli risvolti militari politici piuttosto rilevanti. Sì, Stefano Orsi. Credo che il vantaggio maggiore per la Russia da un accordo con la Corea del Nord non sia tanto nell'accedere a un enorme deposito e scorta di munizionamento, di artiglieria che la Russia produce già in abbondanza e dovrebbe arrivare entro fine anno a superare i 3 milioni di proiettili prodotti in un anno, quindi più del fabbisogno del conflitto e per il prossimo anno arrivare a 4. Stiamo parlando di cifre 7-8 volte superiori alla totale capacità dell'Occidente di produzione di proiettili d'artiglieria è l'accesso ad alcuni sistemi di arma che la Corea del Nord possiede. La Corea del Nord ha sviluppato, proprio per esigenze belliche, perché ricordiamolo, è un paese in guerra la Corea del Nord, artiglieria missilistica a lunga gittata. I KN-09 che sono missili a 300 mm con un sistema di caricamento a blocchi quindi più veloce che il singolo siluro inserito nel lanciatore, molto più veloce, offre molti vantaggi rispetto al sistema di caricamento dei Smerch o dei Tornado S russi tempi di circa 4 volte inferiori e ha una gittata che arriva fino a 220 km con il sistema di guida GLONAS prodotti dalla Corea del Nord che è un omologo del GPS occidentale prodotti dalla Corea del Nord vengono sicuramente venduti in cambio di prodotti alimentari, prodotti petroliferi quindi non costano praticamente nulla alla Russia e inoltre ci sono i KN-25 sistemi pesanti di artiglieria missilistica da 600 mm testata da 700 kg con gittata da 380 km la disponibilità di questi sistemi di artiglieria da parte della Corea del Nord è nell'ordine delle migliaia di velivoli scorte di artiglieria e di missilistica analoghe a quelle che citava prima in termini di grandezza per l'artiglieria tradizionale e quindi abbiamo l'accesso a sistemi che possono essere questi sì un fattore che ripristina il pieno controllo il pieno dominio a tutte le distanze dell'artiglieria russa la corta, la media e la lunga perché nella lunga gli I-Mars progressivamente hanno causato un allungamento delle catene della logistica russa mentre quelle dell'Ucraina sono ancora relativamente ridotte con questi sistemi la possibilità di colpire da distanza sicura le forze ucraine nelle retrovie aumenta di molte volte per i russi e questo è un problema tremendo l'unione economica politica e militare della Corea del Nord della Cina della Russia perché i legami ormai appaiono indissolubili e dell'Iran anche permettono a questa alleanza che diventa sempre più un'alleanza militare di avere con una presenza dal Mediterraneo al Pacifico perché ricordiamo che la mezzaluna sciita è una realtà e quindi per questa unione è credo la cosa peggiore che poteva capitare agli USA De Morsens prima diceva giustamente che si sono intensificati colloqui perché queste forniture rappresentano un grosso problema per la tenuta delle linee ucraine già messa alla frusta e quindi cercano disperatamente di ottenere un accordo strappare un accordo di tregua con la Russia a mo' di Corea questa soluzione che sento dire tirar fuori nuovamente dal cilindro del mago in questi giorni da svariati personaggi non è applicabile perché l'Occidente dovrebbe avere una minima credibilità negli accordi firmati e sottoscritti non ce l'ha più la Russia non si accontenterà di una firma su un pezzo di carta la Russia vuole la resa e la totale fine dell'esercito ucraino l'esercito chi andrà a dire quindi agli ucraini dopo che hanno perso centinaia di migliaia di soldati che si devono anche disarmare e non entreranno né nella UE né nella Nato Sì saranno quindi le vittime sacrificali di tutto ciò che sta avvenendo tanti punti toccati da Giacomo e Stefano in quest'ultimo intervento lascio a te De Mostenes l'analisi le considerazioni conclusive di questo nostro appuntamento di questa nostra intervista guarda aggiungo soltanto un ultimo aspetto in relazione alla domanda che hai fatto le risposte che hanno dato a Giacomo e Stefano molto interessanti con dei dettagli che non conoscevo e che mi arricchiscono da un punto di vista politico evidenzio come tutto ciò avvenga sulla scia contemporanea sostanzialmente del forum di Vladivostok forum di Vladivostok partecipato da decine e decine di paesi di imprese penso che abbiano partecipato quasi 7000 persone dove Vladimir Putin ha detto chiaramente una cosa e cioè che il futuro strategico del paese della federazione russa è rivolto verso l'Oriente bye bye occidente e devo dire che questo è come dire il contesto all'interno del quale leggere tutte le considerazioni che hanno avanzato prima di me Giacomo e Stefano Putin è stato chiarissimo ha parlato per due ore e la federazione russa volente o non ente si sposta verso Oriente questo avrà delle ripercussioni molto molto gravi sui noi europei e sul nostro paese e sull'Italia chiaro e stanno circolando in questi giorni le dichiarazioni della von der Leyen dei vari vertici dell'Unione Europea che il Salentia ancora più di un anno fa dove dicevano che la Russia sta cedendo e quindi la vittoria la vittoria è vicina sono molto interessanti l'ha detto davvero assolutamente sì sono molto interessanti da vedere e secondo me sarà molto molto interessante anche vederle circolare queste queste dichiarazioni queste dichiarazioni fatte oltre oltre un anno fa siamo in chiusura se hai trovato questa nostra intervista interessante pensi che il nostro lavoro sia utile importante per la tua informazione allora supportaci con la tua donazione o abbonandoti al nostro canale puoi fare un bonifico bancario libero oppure puoi abbonarti al vaso di Pandora tramite la piattaforma Patreon abbonandoti avrai anche accesso a contenuti extra in esclusiva per te nel testo qui sotto trovi il link in descrizione per scegliere quale delle due modalità preferisci ricordo il nostro canale è demonetizzato da YouTube pertanto ti ricordo che il tuo supporto è fondamentale per noi per esistere e per far evolvere il vaso di Pandora io ringrazio moltissimo per questa ricca puntata di informazioni di analisi e di spunti Giacomo Gabellini di cui ricordo il canale il nuovissimo canale YouTube Il Contesto grazie Giacomo grazie a voi buonasera a tutti grazie a Stefano Orsi e ricordo anche nel suo caso l'omonimo canale YouTube seguitissimo grazie perché mi ha detto ho sentito anche l'omonimo canale e dopo mi hanno chiesto ma come si chiama il canale è omonimo 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 lo chiamerò l'omonimo c'è la parola e io ricordo ringrazio moltissimo De Mostaness Floros grazie a voi per l'invito e ringrazio anche Giacomo e Stefano per le informazioni che danno che arricchiscono sempre anche il sottoscritto e ricordo e ricordo il dodicesimo corso di geopolitica che inizia a fine ottobre dove De Mostaness è l'organizzatore è uno dei relatori c'è la possibilità della presenza della presenza fisica e anche oppure online e ricordo che trovate in descrizione per maggiore informazione per iscrivervi il link qui sotto nel testo in accompagnamento grazie ancora a tutti grazie a tutti voi amici ascoltatori a tutti